Amici di Made in Vino, ciao siamo qui con l'amico Filippo Curioli, ciao Filippo. Oggi presentiamo un mondo funcione d'Abruzzo, una meraviglia, una firma, Marina Kvetic, chi non la conosce, un 2006, un vino di Masciarelli, 14,5 gradi, un vino di denominazione DOC, passiamo alla dimostrazione Filippo. Perfetto, andiamo a vedere questo Montepulciano come si presenta, rosso, rubino intenso, molto fitto, ha qualche riflessio granata, essendo del 2006 però lo vediamo anche come il giro del bicchiere, è bello consistente, i suoi 14 gradi e mezzo si vedono tutti, comunque il colore è molto molto invitante, andiamo a sentire al naso, beh qui diciamo che l'intensità è proprio incredibile, persistente, intensa e persistente, rimane moltissimo, esatto, speziato, c'è questa vaniglia, c'è questa liquirizia che si sente tantissimo, un pepe, un pepe nero leggero, frutto di bosco, davvero al naso un'espressività incredibile, beh Montepulciano ragazzi è favoloso, bello secco, bello secco, caldo perché ai 14 gradi ci sentono tutti, si morbido, però ancora ne ha eh? Ha dei bei tannini ancora, definirei davvero eleganti in evoluzione, questo è un vino che del 2006 con questo tannino meraviglioso, comunque sia un vino pronto, bisogna avere un po' di pazienza hai visto quel vino, è un vino pronto adesso, però anche se è un vino che ha 6 anni, è ora di berlo, 14, 16 gradi, qui con il Quattricchino delle lenticchie di Natale, è una meraviglia, è una meraviglia, cavolo è una meraviglia, è anche il caso di dire allora buon Natale, buon Natale a tutti e buone feste, cina